Nel suo arbo Ho visto qualcosa di incredibile prima È arrivata una Wraith con un calcio volante Ha messo fine alla vita del povero Sharp Questa qui che si è preso il TP e si è preso la shotata Ragazzi questa qui è sponsorizzata da Pazzia.com C'è stata benvenuta E via Ci siamo Nice Nice Ma